Musica Ciao a tutti, oggi vi farò vedere un effetto con il mio nuovo mazzo, il Wrath Deck l'effetto è l'Helberg's Pick di Dan and Dave allora andiamo a prendere la prima carta del mazzo in questo caso il 2D cuori e la successiva in questo caso il 3D picche prendiamo il 3D picche e lo andiamo a mettere al fondo, il 2D cuori lo lasciamo così alla cima, basta un attimo che le carte si invertono, ora il 3D picche arriva alla cima, mentre naturalmente al fondo ci sarà il 2D cuori, ma questa è soltanto un'illusione, perché il 2D cuori è sempre stato alla cima mentre al fondo c'è sempre stato il 3D picche, grazie il 3D picche, grazie il 3D picche, grazie e il 3D picche, grazie il 4D picche, grazie